Ha accolto con una risata e una parola, top, la sua imitazione, pubblicata da poche ore sul profilo social di Fratelli di Crozza. Maria Rosaria Boccia ha ricondiviso il video, lo trovate in basso, sulla sua pagina Instagram e sembra felice di essere finita nel parterre di personaggi famosi imitati dal comico più amato d'Italia, Maurizio Crozza. In fondo si dice che si diventa qualcuno nel momento in cui finisci nel mirino della satira. Satira che colpisce per definizione i potenti. Potente o no, di certo Boccia sta tenendo le fila di un lungo scandalo politico e mediatico da settimane. Ma andiamo per ordine e ricordiamo la vicenda. Il caso Boccia scoppia a fine agosto, quando la 41enne di Pompei ringrazia pubblicamente via social il ministro San Giuliano dell'incarico di consigliera per i grandi eventi del Ministero della Cultura. Un incarico che il di Castero smentisce. In tanti al di Castero prendono le distanze da lei, dicendo di non conoscerla o di non sapere. Ma lei a quel punto fa scoppiare il caso mediatico sfoderando screenshot di e-mail ufficiali, biglietti di viaggio, foto nel seguito del ministro San Giuliano durante un sopralluogo a Pompei in vista dell'organizzazione del G7 della Cultura, video girati con un paio di smart glass dentro la Camera dei Deputati. La professionista dunque finisce in una diatriba con il ministro della Cultura, Gennaro San Giuliano, in merito a un incarico di consulente promesso e mai ratificato, e costringe lo stesso ministro a rispondere alla sua narrazione social che smantella una dopo l'altra le affermazioni di San Giuliano. Dopo le prime dimissioni respinte dalla Premier Giorgia Meloni, il ministro rilascia un'intervista al Tg1, in cui parla di Boccia come di una sua amante e rivendica di non aver mai speso denaro pubblico per pagare le sue trasferte. Boccia, però, non si ferma. E il giorno successivo scrive un lungo post di accusa. Rivolto non solo a San Giuliano, ma anche alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Ho inizialmente mantenuto il silenzio stampa per rispetto delle istituzioni, le parole su Instagram. Ho scelto di parlare solo quando il vaso delle menzogne era ormai colmo, limitandomi a contestare le falsità per difendere la verità. Oggi vengo accusata di essere una ricattatrice, ma in realtà non sono io ad aver creato il ricatto. Sono coloro che occupano i palazzi del potere ad esercitarlo. In questo contesto, il potere ha spinto il ministro alle dimissioni per poi respingerle, all'interno di una strategia cinica volta a tenere in ostaggio la cultura italiana in un momento di visibilità internazionale. Da quel momento sarà lei, prima alla stampa poi sulla 7 è in onda a rilasciare interviste. Fino all'invito fatto da Bianca Berlinguer che però finisce in malora perché secondo la giornalista l'imprenditrice avrebbe chiesto di avere prima le domande scritte. Le dimissioni da ministro. Intanto San Giuliano si dimette definitivamente da ministro. Sposato con la giornalista del Tg2, Federica Corsini si rifugia in un eremo francescano per un ritiro spirituale a Greccio. I primi di settembre fa sapere che nella giornata di venerdì 6 avrebbe avuto un incontro con i suoi legali per valutare la presentazione di un esposto presso la Procura della Repubblica. A oggi non risulta ancora un esposto depositato. Limitazione di Crozza. Io voglio solo che venga fuori la verità sulla questione San Giuliano, ma non solo sa, non solo. Anche su Marilyn Monroe, beh Marilyn è morta soffocata da un supplì, ma cosa dice? Eh ho il video del supplì, eh sì ce l'ho perché mia nonna era consulente di Kennedy, eh sì. Craxi era infatuato di mia mamma e di me si è infatuato San Giuliano un po', in discesa. Maurizio Crozza con Fratelli di Crozza sta per tornare il 27 settembre sul 9. Un successo annunciato. E Maria Rosaria Boccia è una delle imitazioni di punta della nuova stagione che vedremo nei prossimi mesi. Immancabile anche quella di Gennaro San Giuliano, che abbiamo già avuto modo di apprezzare. Lunga parrucca bionda, un bel cerone bianco sul volto, labbra con il rossetto e a completare il look un punto luce al collo, camicia bianca e giacca nera, l'outfit che Maria Rosaria sfoggia in uno dei suoi molti post Instagram. Nell'imitazione Crozza estremizza la sua difesa, passando per Kennedy, Marilyn Monroe e tocca anche Craxi. Tornando a Kennedy, era infatuato di lei e l'aveva nominata solo che la nonna della Meloni ha stracciato la nomina di mia nonna e ho le prove. Come ho le prove che le api di Lollobrigida non sono state uccise dai calabroni, ma da Arianna Meloni. Sì, Arianna Meloni vuole un mondo senza fiori e lo so perché ho un video di un mondo senza fiori e sarà una prova.